Siamo al... sta facendo, eh? Sta partendo la diretta direttamente su Facebook. Sì. Ok, dovremmo essere in diretta Facebook anche e anche qui su Zoom. Poi mi daranno conferma se si vede tutto bene, se siamo a posto. Allora, eccoci qua, benvenuti al secondo incontro dove naturalmente il tema era quello che avevo detto, la sicurezza dei siti web e abbiamo come ospite, la prima ospite che mi fa molto piacere avere come primo ospite in questa serie di incontri, Annalisa Fiaschi, mi confermano che su Facebook si vede tutto a posto. Annalisa Fiaschi, allora, si presenterà poi lei, una webmaster, come vi ho scritto. Allora, Annalisa Fiaschi, oltre ad essere una webmaster, è anche un'amica perché abbiamo organizzato insieme, abbiamo cercato quest'anno di organizzare insieme anche alcune cose, tra cui l'evento che vi dicevo la volta scorsa, quello che doveva riunire un po' le scuole a Volterra, era organizzato a Volterra, incontro che aveva anche la partecipazione straordinaria, diciamo così, di Paolo Picchio, che partecipava a questo evento a Volterra. Dopo vi parlerò anche di un attimo di Fondazione Carolina e di Pepita per farvi capire, appunto, per chi non lo sa, chi è Paolo Picchio. Purtroppo per gli eventi che ci sono stati abbiamo dovuto rinviare questo evento, lo faremo, lo faremo sicuramente quando sarà possibile, però Annalisa è quella che ha curato anche la grafica dei manifesti di questa iniziativa, se qualcuno l'ha visti, che ho ripreso un po' nei post che ho messo anche sulla mia pagina Facebook. Vedete che la grafica che c'è lì è stata fatta direttamente da lei. Detto questo, non indugerei oltre perché alla fine vi dirò qualcosa quando Annalisa poi ha terminato il suo intervento. Se ci sono domande le potete fare, per chi è in stanza qui su Zoom le può scrivere direttamente, chi è su Facebook le può fare anche da lì. Se anche non fate in tempo a farle, le farete dopo, io le passerò comunque ad Annalisa e comunque la risposta l'avrete, perché qualcuno mi ha detto, purtroppo non riesco a seguire gli incontri in diretta, non c'è problema, ma intanto poi rimangono sulla pagina di iBabbo. Quindi lo potete rivedere con tutta calma lì, questo piccolo incontro. E se vi vengono in mente delle domande, me le potete fare anche dopo, intanto io poi le giro anche dopo ad Annalisa e poi troveremo il modo per farvi rispondere. Ok? Quindi detto questo, lascio la parola ad Annalisa Fiaschi, che è collegata da Volterra. Prego, Annalisa, se vuoi condividere il desktop tu. Ecco, mi vedete? Allora, intanto, buonasera a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare Gianluca Manzi, che mi ha dato l'opportunità di partecipare a questi incontri. Grazie, ne sono veramente onorata. Sicuramente questa tematica, la sicurezza informatica, è una tematica molto importante al giorno d'oggi e in particolar modo in questo periodo che siamo, fra virgolette, costretti a casa. Non è una costrizione, è un nostro dovere in questo momento. Stasera affronterò la, con voi, vorrei parlare con voi, della tematica della sicurezza informatica legata ai siti web. Perché se è vero che la sicurezza informatica riguarda il mondo virtuale, poi questo ha poi degli effetti nel mondo reale quotidiano. Quindi la ritroviamo, ritroviamo tutti gli effetti nella nostra quotidianità. Faccio una breve presentazione di chi sono, come mi ha già anticipato Gianluca, mi chiamo Annalisa Fiaschi. È da qualche anno che lavoro nel campo del web, di internet, tant'è che ho aperto partita IVA e ho una ditta, diciamo, individuale, si chiama Artigian Web e sono una webmaster. Perché dopo un percorso universitario legato alla multimedialità e alla comunicazione ho deciso di intraprendere questa strada nel mondo di internet. E ovviamente il mio lavoro, come del resto tanti altri lavori, comportano studio, pratica e sperimentazione. Quindi dopo lo studio bisogna appunto mettere in pratica quello che si è appreso sperimentando e sporcandoci le mani, in un certo senso. Qualcuno magari mi potrebbe chiedere, ma chi è che ha bisogno di un webmaster? Beh, sicuramente chiunque, nel senso che ha bisogno di questa figura, un proprietario di una ditta, un libro professionista o anche un semplice, senza sminuire ovviamente, blogger. Perché hanno bisogno tutti di una figura che gli curi appunto e che gli segua questo progetto web che sarebbe la gestione del sito internet. Infatti il mio lavoro consiste nel creare, nel programmare un sito internet, ma soprattutto di seguire questo progetto durante la sua vita. Quindi dopo anche la messa online, monitorare che cosa avviene, quali comportamenti avvengono da parte degli utenti sul sito internet. Stasera vorrei affrontare con voi la tematica della sicurezza, appunto l'argomento della sicurezza informatica legato ai siti internet, da due punti di vista. Il primo legato all'utente che naviga sui siti internet. L'altro aspetto che affronteremo dopo invece da parte del proprietario che ha un sito internet suo, con il quale lavora o comunque fa, svolge la propria attività. Allora, per quanto riguarda il primo punto di vista, quindi dal lato dell'utente va detto che noi trascorriamo la maggior parte della nostra vita in rete, perché basti pensare che facciamo degli acquisti online attraverso i siti di e-commerce. Ne posso citare qualcuno che sicuramente conoscerete. Quelli che mi vengono subito in mente, i più famosi, possono essere Amazon, eBay, Zalando, ma ce ne sono tantissimi altri. E poi c'è anche il piccolo negoziante che può avere il proprio sito e-commerce, il proprio sito online, il proprio negozio online, con il quale appunto svolgere commercio elettronico. Quindi noi acquistiamo online, ma non solo. Guardiamo anche film, dei video, ascoltiamo della musica, possiamo prenotare le nostre vacanze, i nostri viaggi. Quindi come per l'acquisto online utilizziamo i nostri metodi di pagamento. Poi possiamo cercare anche delle informazioni e al giorno d'oggi lavorare e studiare attraverso la rete. Quindi bisogna stare molto attenti. La prima domanda che io mi porrei quando approdo su un sito internet è ma questo sito è veramente sicuro? E quindi ci sono vari aspetti che possiamo affrontare per valutare la sicurezza di un sito internet. Adesso i noti di internet sono così sicuri. Tanti o comunque alcuni possono presentare dei rischi. Rischi legati alla nostra privacy, rischi perché ci possono sottrarre delle informazioni o nel peggiore dei casi del denaro oppure possono infettare il nostro computer attraverso dei virus. Il primo aspetto per valutare se un sito internet è sicuro è quello di controllare il protocollo di comunicazione. Che cos'è in sostanza? Quando noi chiediamo di visualizzare una pagina o un sito lo facciamo attraverso il nostro browser di navigazione che è Mozilla Firefox, Google Chrome o in alcuni casi anche Internet Explorer anche se non è uno dei browser più affidabili. E quindi facciamo una domanda attraverso il nostro browser al server, cioè a dove è allocata, dove è situata la pagina o il sito internet. Quando a noi viene visualizzata la pagina o il sito appare il www.ilnomedidominio ma prima del www c'è il protocollo di comunicazione. è l'HTTP. Questo protocollo di comunicazione, HTTP, diciamo che non è molto sicuro perché non cripta i dati e quindi in questo processo di comunicazione tra noi e il server i dati possono essere modificati o rubati o cancellati da un malintenzionato che può essere in attesa e in ascolto. Faccio un esempio. È come se noi si fosse con un nostro amico in una stanza affollata con altra gente, non è proprio il periodo adatto questo qui ma comunque facciamo finta e noi dobbiamo comunicare al nostro amico che sta dall'altra parte della stanza i nostri dati della carta di credito e gliele comunichiamo urlandoglieli. Quindi capite bene che non solo il nostro amico verrà a conoscenza dei dati della nostra carta di credito ma anche tutte le persone che sono intorno a noi e sicuramente questo non è un aspetto molto sicuro nel comunicare i nostri dati con le conseguenze che vi potete immaginare. Al contrario se il protocollo di comunicazione è sicuro è presente l'HTTPS ossia si aggiunge una piccola S al protocollo di cui stiamo parlando e questo ci identifica che il sito internet è sicuro quindi questo scambio di dati avviene in maniera sicura e tranquilla. È come se, faccio un altro esempio è come se si fosse sempre in questa solita stanza affollata e noi comunichiamo i dati della carta di credito al nostro amico ma scrivendoglieli su un pezzettino di carta e passandogli direttamente nelle sue mani. Quindi è una comunicazione sicuramente affidabile e sicura. Come visualizziamo? Cos'è quindi in sostanza questo HTTPS? È questo protocollo di comunicazione sicuro che criptografa i dati che vengono scambiati tra noi e il server quindi che stiamo sul sito dove è appunto collocato e che noi stiamo utilizzando. Quindi questo passaggio di informazioni non comporta modifiche non comporta che i dati siano danneggiati quindi i dati arrivano a destinazione in maniera integra. Gli utenti oltretutto sono protetti da attacchi informatici il sito appare agli occhi degli utenti sicuro e autorevole e questo, un ultimo aspetto, non vale, non riguarda diciamo l'utente vero e proprio riguarda più il proprietario di un sito internet se il proprietario del sito internet ha un protocollo, ha il sito con un protocollo sicuro questo è ben visto anche dai motori di ricerca che fanno sì di migliorare il posizionamento del sito stesso. Quindi se noi svolgiamo delle operazioni delle operazioni su siti di e-commerce stiamo molto attenti anche su altri siti se c'è uno scambio di dati sensibili stiamo molto attenti alla presenza di questo protocollo sicuro. Un altro aspetto è sicuramente legato all'autorevolezza del sito ossia quando noi approdiamo su un sito internet dobbiamo raccogliere la maggior parte delle informazioni sul sito stesso in maniera da capire se questo sito è autorevole e quindi ascoltare magari anche altre fonti che ci parlano di questa piattaforma. Inoltre bisogna, è bene, consigliabile cercare nel sito stesso le informazioni che lo riguardano quindi email, telefono, indirizzo fisico, partita IVA, codice fiscale, PEC qualsiasi altra informazione relativa al sito internet che ci comunica e che ci rassicura sul fatto che appartiene a un ente o a una persona reale che è realmente esistente in sostanza. Anche perché non è importante anche su siti internet cosiddetti acchiappaclick ossia sono siti che sono esca per utenti clickbaiting che cosa sono? Sono dei contenuti web che possono essere pagine, video o anche altri contenuti che hanno la funzione specifica di attirare il maggior numero di persone verso queste pagine, verso questi siti con titoli accattivanti a effetto che fanno leva sulle nostre emozioni e che quindi hanno l'obiettivo proprio di incitare l'utente a cliccarvi per poi condividere questi contenuti sui social e quindi allargare la cerchia di azioni il raggio di azioni con altre persone. Dietro a questi siti sicuramente si nascondono delle inserzioni a pagamento che hanno lo scopo di aumentare il numero delle visite verso il sito o verso la pagina stessa uno dirà va bene non c'è niente di male e in effetti un lato negativo un pericolo nascosto c'è ossia quello che gli hackers possano sfruttare questi siti e queste pagine internet per nascondere dei malware cioè dei software malevoli che si installano nel nostro computer in maniera immediata e così semplice che l'utente non se ne accorge fino a quando i virus hanno infettato il computer e possono anche creare notevoli danni sul pc dell'utente. Allora, continuerei ad affrontare l'argomento passando però al secondo punto di vista ossia dal proprietario del sito internet colui il quale ha un sito internet c'è da dire che qualsiasi sito internet non è sicuro al 100% cioè può subire degli attacchi qualsiasi sito sia dal semplice sito sia da quelli più autorevoli avresti sicuramente sentito di attacchi hacker verso siti governativi o multinazionali e via dicendo quindi siti sicuramente che sviluppano una sicurezza informatica maggiore quindi l'unica cosa da fare è fare prevenzione e poi vedremo come fare anche perché se noi disponiamo di un sito internet con il quale svolgiamo un commercio online bisogna affrontare questo aspetto perché bisogna creare fiducia verso l'utente che utilizza il nostro sito in maniera che l'utente sia sicuro che la gestione dei suoi dati avvenga tranquillamente in maniera sicura allora ci sono alcuni punti che vorrei affrontare con voi e tutti questi punti però c'è da dire che contribuiscono alla sicurezza generale del sito quindi sarebbe bene che nessuno abbia un punto debole altrimenti è come se fosse una catena con tanti anelli se un anello è debole ovviamente anche la potenza della catena viene meno partendo dalle basi dobbiamo dire che bisogna partire dal provider affidabile il provider che cos'è? il provider è il fornitore del servizio internet colui che ci fornisce il servizio quindi bisogna che sia un fornitore sicuro perché altrimenti la nostra le nostre basi sarebbero di argilla in sostanza poi bisogna fare un controllo periodico del sito questo sia che disponiamo di un sito internet sia che siamo degli utenti che navigano in rete possiamo fare delle scansioni del sito stesso per vedere se sono presenti dei virus e questo lo vediamo dopo come poter fare inoltre ci deve essere un accesso sicuro al sito stesso questo è un argomento che è già stato affrontato già da Gianluca nella precedente lezione e se non l'avete seguita vi consiglio di ascoltarla in sostanza non ci devono essere delle password deboli sembra strano ma oggigiorno la password più utilizzata è sempre una, due, tre, quattro non è assolutamente possibile la password deve essere composta di almeno otto caratteri alfanumerici quindi composta da lettere e numeri e anche caratteri speciali e non deve essere utilizzata per tutti gli accessi che cosa vuol dire? che se io sono un proprietario di più siti internet quindi ho più siti internet miei in rete non posso utilizzare la stessa password per tutti quanti poiché se mi viene scoperta la password allora il mio accesso è fallito su tutti quanti inoltre anche dall'altro utente che naviga in rete non posso utilizzare la stessa password per la mail per Facebook per l'account su Amazon su eBay e quant'altro bisogna che la password sia differente perché se ci trovano se ci scoprono la password allora ci creano notevoli danni su tutti i nostri account in rete tornando al sito internet il software e le parti che lo compongono devono essere aggiornate 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 quindi devono essere aggiornate all'ultima versione proprio per bypassare delle falle che si possono creare nel software stesso inoltre è importante aggiornare anche i nostri browser di navigazione soprattutto Google Chrome e Mozilla Firefox Internet Explorer non lo consiglio come browser per navigare perché ha creato notevoli danni e notevoli problemi anche agli utenti inoltre è utile usare i Kafka che cosa sono? sicuramente vi sarà capitato quando inviate compilate un form per inviare i vostri dati su una pagina internet oppure inviate una mail o vi scrivete a una newsletter Google vi presenta o comunque la pagina sulla quale vi presenta una serie di immagini e vi chiede di cliccare su una determinata categoria che vi dice lui oppure vi chiede di inserire una stringa alfanumerica sempre in un campo ben preciso ebbene questi sono dei test di controllo che verificano se chi compone il form o comunque si iscrive alla newsletter è una persona reale e non è un computer sono proprio dei fuochi di sbaramento verso i computer che mandano in maniera automatica delle richieste e che quindi questi computer non riescono a risolvere il problema e si fermano lì quindi anche questo è molto importante poi bisogna che se il sito internet ha delle aree riservate le password devono essere individuali quindi devono essere gli accessi devono essere limitati soprattutto se sul sito ci sono delle informazioni delle immagini o dei video molto sensibili bisogna fare attenzione alle mail anche di questo ne ha già parlato Gianluca nella precedente lezione perché è bene non aprire mai email allegati o link sospetti o di dubbia provenienza perché dietro a questi si possono celare dei virus che una volta scelti una volta cliccati si installano nel computer dell'utente e creano notevoli danni criptando anche i file ve ne parlo perché anni fa io ho subito una cosa di questo genere ho cliccato in maniera disattenta su un allegato che mi era arrivata da una mail non ho verificato purtroppo subito l'autenticità della mail e dopo aver cliccato su questo allegato infetto il virus mi è entrato nel computer e mi ha criptato i vari file capite bene che oltre a perdere magari dei lavori a rischiare di perdere dei lavori uno perde anche i propri dati personali i propri file personali e tutto quanto ma fortunatamente ho potuto risolvere e con questo mi leggo al punto successivo perché avevo fatto precedentemente delle copie di backup di tutto di tutto il contenuto che io avevo sul sito scusate sul mio computer quindi avevo copiato i miei file di lavoro privati e quant'altro e li avevo posti in un dispositivo staccato dal computer quindi fare delle copie preventive per poter poi ripristinare i file se ci dovesse essere un'infezione ecco del computer da parte di alcuni virus ovviamente questi dispositivi sui quali ci sono queste copie di sicurezza devono essere fisicamente staccati dal computer infetto perché altrimenti si rischia di perdere anche quelle copie che avevamo fatto in precedenza legato quindi a un sito internet poiché è possibile che il sito subisca degli attacchi hacker e quindi sia infettato e subisca quindi dei danni è bene avere delle copie preventive pulite che ci servano poi a ripristinare il sito stesso una volta eliminato il danno quindi questi sono tutti anelli che si concatenano per far sì che un sito sia il più sicuro o meglio si renda un sito maggiormente sicuro quindi abbiamo visto che navigare su un sito internet non che non è sicuro ci mette a rischio di un furto dei dati personali dei dati della carta di credito e altri notevoli danni che si possono subire in pratica un sito può subire anche una iniezione chiamiamola così di codice malevolo che fa sì che il sito poi esegua al suo interno e quando un utente vi arriva viene infettato a sua volta in sostanza il sito si presenta in maniera diversa si comporta anche in maniera diversa da come si dovrebbe comportare e questo fa sì che ci siano delle conseguenze negative anche per chi lo naviga o inoltre se non è possibile da parte di questi malintenzionati non è possibile infettare o comunque danneggiare un sito internet possono agire attraverso delle richieste un numero di richieste eccessive che fanno al server dove è posizionato il sito internet mandando il server letteralmente in tilt e rendendo il sito internet inaccessibile quindi se non riescono a bucarlo con dei virus lo buttano giù in sostanza quindi come possiamo verificare siamo quasi al termine delle nostre slide come possiamo verificare se un sito internet è sicuro come utenti lo possiamo fare attraverso il nostro browser perché prima come abbiamo detto dell'indirizzo del sito internet e prima del www dovrebbe essere presente il protocollo HTTPS e Google Chrome ce lo mostra con un lucchettino l'icona di un lucchettino verde o grigio affiancato alla dicitura sicuro altrimenti se sono presente altre icone e la dicitura non sicuro stiamo attenti soprattutto se su questo sito dobbiamo svolgere delle operazioni dove sono coinvolti i nostri dati sensibili se non ci vogliamo però affidare al nostro browser ci sono anche servizi terzi ossia altri siti internet ve ne posso citare qualcuno il primo è virus total questo può essere utilizzato sia lato utente sia lato proprietario del sito internet perché dispone di un campo dove inserire l'indirizzo del sito internet e lui inizia a scansionarlo e vede se è stato infettato o meno la stessa scansione la possiamo fare anche sui file o le cartelle presenti sul nostro computer mentre un altro è safe web di Norton dell'altivirus Norton anche questo si comporta in maniera analoga al primo quindi abbiamo questi tre metodi potremo avere questi tre metodi per verificare la sicurezza di un sito internet internet allora io sarei arrivata in fondo alle mie slide se ci sono delle domande sarò lieta di rispondervi sperando di potervi rispondere in maniera più esaustiva possibile e intanto vi ringrazio l'attenzione grazie a te ti dicevo che qualche domanda mi è stata già mandata quindi me le stavo appuntando mentre tu parlavi non è che ero distratto ma mi stavo appuntando le domande che a mano a mano mi mandavano così a parte quelle che volevo farti io ok sono anche delle altre allora parto con una precisazione perché mi hanno scritto dicendo ma che differenza hai citato appunto gli hacker che è questa figura fantomatica appunto che cerca di rubarci gli i dati e tutto il resto differenza tra hacker e cracker ok adesso ormai erano più una differenza che c'era qualche anno fa ok correggimi se sbaglio perché i cracker erano quelli più diciamo dal cappello nero più cattivi che proprio volevano rubarci delle cose gli hacker invece era una cosa un pochino più filosofica nel senso ti guardo magari il tuo sito i tuoi dati scopro delle vulnerabilità e te le segnalo così tu puoi correggerle e metterci la classica pesce nella classica toppa era a fin di bene esatto era un'intrusione a fin di bene ora poi questa differenza è andata abbastanza a finire perché anche nei vari film e tutto il resto si parla sempre di hacker ormai la figura è l'hacker difficilmente si parla di cracker anche perché forse qui in Italia ricordano i cracker quelli da mangiare non è un termine non è un termine che ha avuto parecchio riscontro invece hacker è proprio quello che in tutte le serie anche televisive che ci sono fa più scalpore esatto viene sempre citato come l'hacker il più grande hacker che c'è stato quindi un po' la distinzione è stata questa parto con le altre domande prima quelle che volevo farti io allora te la faccio perché molti genitori quando faccio i vari corsi mi dicono ma come i ragazzi magari mio figlio mia figlia sono molto interessati a questi argomenti ma cosa cosa devono fare quindi la prima domanda era come si diventa webmaster perché dico spesso ai ragazzi negli incontri voi da grandi farete magari dei lavori che adesso neanche esistono il webmaster anni e anni fa era una cosa che è partita oppure il media social quello che si occupa della gestione di social qualche anno fa era qualcosa di assolutamente che nessuno si pone invece ora sono professioni rispettabilissime che hanno delle grandissime professionalità che vanno portate avanti quindi la prima domanda è questa qui come si diventa webmaster allora parlo per il mio caso io ho fatto un percorso universitario come ho detto all'inizio che riguardava la multimedialità e poi la comunicazione dopo va detto che dopo che ho finito l'università io non ho smesso di studiare anzi ho frequentato dei corsi sia in presenza sia online per approfondire per ampliare queste competenze che mi sono richieste mi vengono richieste se qualcuno ha idea appunto di diventare webmaster il consiglio è quello di partire dalla facoltà di informatica anche se una facoltà vera e propria per diventare webmaster non c'è non c'è ancora oggi quindi magari partire da informatica e poi da lì ampliare il proprio raggio di azione con altri studi e altri corsi il mio percorso sicuramente è nato dalla passione perché quando ero all'università un professore ci propose di creare un sito internet all'epoca si ragionava in html e css quindi si scriveva proprio a mano il codice e da lì io rimasi impressionata e decisi di portare avanti ecco questa strada inizialmente come hobby e poi man mano sempre più avanti decisi appunto di praticarla come lavoro però ecco il consiglio che potremmo dare a chi è interessato a diventare un webmaster è quello sì di partire dalla facoltà di informatica e poi continuare ad approfondire le proprie competenze leggendo studiando continuamente perché come dicevi Gianluca le professioni oggigiorno sono tante sono nuove e il webmaster deve diciamo affrontare deve abbracciare vari aspetti non solo come si costruisce un sito internet ma anche poi come si mette in rete i contenuti che devono che lo devono riguardare la scrittura dei contenuti la condivisione del sito internet e dei contenuti sui social network il posizionamento sui motori di ricerca perché è inutile avere un sito internet bello e sfolgorante ma se nessuno lo vede deve essere rintracciabile sulle prime pagine del motore di ricerca e non è una cosa facilissima diciamo soprattutto al giorno d'oggi quindi ecco il mio percorso è stato questo ok allora si lega parto subito con l'altra domanda che è stata mandata e che dice quali piattaforme consiglieresti per un sito internet anche a uso proprio domestico privato perché ci sono dicevano in vari siti trovi fai il sito da te ci sono varie cose tutto il resto tu le consigli queste cose o sono ne diciamo ne perché se è vero che oggi ci presentano molte piattaforme per costruire da noi anche un profano fra virgolette niente senza niente non è basta è proprio una roba da farsi un sito penso esatto farsi un sito in casa però fare un sito internet dietro a questo lavoro ci sono tante cose e quindi magari una figura un professionista ti può seguire può conoscere già di per sé tutti questi aspetti che magari una persona che non non percorre questa strada non può neanche sapere comunque ecco per esempio ci possono come piattaforme molto intuibili anche da parte degli utenti sicuramente wordpress dite quella adesso penso una tra le più usate e poi è ampliabile con varie con varie sezioni e quindi da lì poi uno si può sviluppare anche un sito professionale legato se viene seguito anche da un professionista certo perché il rischio grosso come sottolineavi anche tu ora non è solo più fare un sito ma fare un sito anche sicuro sì nel senso che come tantissime altre cose che sono state negli anni quando sono state fatte questo problema è stato preso in considerazione magari in forma minore all'inizio quindi sembravano appunto non c'era il rischio non c'era invece poi andando avanti negli ultimi anni poi ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti i vari attacchi che sono stati fatti il problema ora non è più marginale cioè diventa rilevante avere un sito sicuro per evitare tantissimi tipi di sciagure che ci possono essere dal furto dei dati dall'essere modificato a nostra insapura esatto poi danni esatto è successo anche questo quindi sono danni poi di immagine che poi si perché o se è un sito internet oltretutto che tratta dei dati sensibili degli utenti da parte del proprietario del sito è molto rischioso inoltre anche un utente che si è costruito da sé in proprio una pagina un sito internet può vedere venir meno è quel lavoro che ha fatto fino a quel momento l'altra domanda che mi è stata mandata era questa qui che richieste in genere ti fanno quando vengono da te dicono vorrei creare un sito web e come noti che sono cambiate negli anni cioè sono sempre state le stesse o notano credo che come tutte le professioni a mano a mano che le cose vanno avanti poi le domande magari di base rimangono però certe cose cambiano col tempo allora non tutte le richieste sono le solite bisogna valutare poi oltre alla richiesta che ti fa il cliente diciamo così bisogna valutare anche le necessità che ha e quindi tutto ciò che c'è dietro sicuramente è quello di essere visibili sui motori di ricerca per poter quindi magari se è un sito legato a un agriturismo o quant'altro per essere visibili in rete e essere quindi ricevere delle prenotazioni delle visite da parte degli utenti quindi bisogna vedere un pochino chi abbiamo di fronte che necessità che viene il target che abbiamo di fronte va bene allora adesso ti ringrazio intanto grazie grazie in cui sei stata incastrata per questo gli utenti non lo sanno ma io lo so e quindi allora se puoi è stato molto è stato un piacere è stato affascinante davvero sono un po' emozionata va bene va bene allora adesso scondividi lo schermo per usare un termine ok così nella eccoci ci chiamo perfetto lo condivido io perché volevo farvi vedere solo ancora un paio di cose ci arrivano altre domande ok questo è già lo schermo mio immagino mi sposto l'iconcina di qua volevo solo darvi gli ultimi consigli che erano questi per promemoria anche delle volte successive i vari incontri allora questo del 28 marzo era questo appunto con con analisa e parlavamo appunto dei siti web della loro sicurezza ricordo mercoledì primo aprile anche se il pesce d'aprile lui viene me l'ha garantito alle 18 e 30 l'incontro con Matteo Baroncini che è uno psicologo e parlerà aspettate che delle nuove tecnologie opportunità prospettive poi sabato 4 18 e 30 più o meno li facciamo sempre come notate mercoledì e sabato poi vediamo dipende anche dagli ospiti dalle esigenze di tempo impegni che hanno parleremo dei social e dei giochi online non vi dico l'ospite ma ci sarà e poi mercoledì 8 aprile sempre 18 e 30 l'incontro con Beatrice Cauteruccio anche la psicologa che parlerà degli effetti psicologici delle nuove tecnologie detto questo volevo però dato che mi è stato chiesto da alcuni i libri consigliati cioè su questo periodo che siamo a casa c'è più tempo giustamente è bene leggere bisogna leggere sempre per questo periodo magari si può leggere un po' di più i libri consigliati parto con il primo e allora lo dico subito i libri consigliati non è che la percentuale sui libri ve li faccio ve li faccio vedere perché l'ho letto e mi sono piaciuti quindi sono a gusto mio però sono secondo me dei testi molto belli molto validi il primo è sicuramente questo adesso magari si vedrà al contrario ma Cyber Security di Giorgio Sbaraglia che secondo me è un manuale perfetto per avere proprio la panoramica di tutte le problematiche legate alla Cyber Security però non ve lo dico subito in gergo tecnico no è un libro che si può leggere benissimo tranquillamente infatti nel sottotitolo ci dice il web è un luogo pericoloso e dobbiamo difenderci è un po' considerato come il kit di sopravvivenza ok che al giorno d'oggi secondo me tutti dobbiamo avere per riuscire a districarsi nella rete tra l'altro Giorgio Sbaraglia sicuramente sarà ospite di uno dei prossimi incontri quindi lui è un ingegnere segue fa spesso incontri sulla Cyber Security insegna anche in un master sulle 24 insomma è una persona che ne sa parecchio e parteciperà anche lui a uno di questi incontri e quindi sarà sicuramente molto bello seguirlo e sentire cosa ci deve dire poi un altro testo che usano quando faccio gli incontri nelle scuole soprattutto scuole elementari e scuole medie è questo Cyber Bulli al tappeto e come vedete è a fumetti ok ci sono dentro varie parti a fumetti molte di queste di queste immagini le utilizzo anche nei miei incontri come le immagini del libro di Giorgio Sbaraglia che alcune immagini che avete visto anche nelle mie slide dell'altra volta sono tratte da quel libro lì questo libro è molto molto bello perché ai ragazzi piace molto perché essendo a fumetti riesce a far passare i concetti di sicurezza spiegati in modo molto soft quindi ve lo consiglio perché i ragazzi che l'hanno letto in alcune scuole hanno fatto addirittura dei progetti leggendo questo libro ha funzionato ha creato proprio la consapevolezza in molti ragazzi di come devono usare le nuove tecnologie e la cosa bella è che poi vanno a spiegarlo ovviamente ai loro coetanei quindi questo è sicuramente un valore aggiunto e ancora due faccio veloce poi l'altro che volevo consigliarvi è questo adesso parlo io di Pepita Onlus e dopo vi farò vedere un attimo anche il sito di Pepita Onlus e parlo un po' di quelli che sono i progetti ovviamente di Pepita Onlus ma soprattutto degli episodi di cyberbullismo questo libro è a cura di Ivano Zoppi che spero di coinvolgere anche lui in uno dei prossimi incontri e Ivano Zoppi è proprio il direttore di Pepita Onlus e qui ci sono varie testimonianze di ragazzi e ragazze che hanno scritto un po' la loro storia ve lo consiglio perché è da far leggere anche ai nostri di ragazzi e ragazze molto bello perché fa vedere proprio le emozioni anche di tutti questi ragazzi e ragazze quando sono passati in casi di cyberbullismo quindi ve lo consiglio da leggere e da far leggere ai nostri figli l'ultimo l'avevo già consigliato anche in un post sulla pagina che era questo libro gratuito che veniva distribuito ed era cuori connessi questo si può scaricare anche gratuitamente direttamente dal web se guardate nei vecchi post sulla pagina di Babbo si può scaricare tranquillamente c'è il link l'avevo messo quindi in questi giorni che siamo a casa anche qui ci sono varie testimonianze di ragazzi che hanno le loro storie insomma un po' come il libro di cui vi parlavo prima ci sono le loro storie raccontate l'ultima cosa che vi volevo dire sono queste qui oltre ai libri consigliati vabbè ci sarebbero anche film consigliati ovviamente adesso qualcuno ve lo consiglierò se qualcuno ha visto nella serie di Black Mirror l'episodio di lo guardavano oggi addirittura i miei figli di Odio Universale quello sui social ve lo consiglio perché direi che c'entra esattamente l'argomento dei social ricordo parleremo poi sabato prossimo quindi se vi capita di vederlo guardatelo ma ce ne sono altri di film che hanno trattato questo argomento quanto è veloce la nostra rete qualcuno mi diceva come faccio a capire quanto è veloce la mia rete per capire quanto è veloce la tua rete basta andare sul sito eccolo qua che si chiama speed test su google cercate speed test io utilizzo questo speed test punto net ma ce ne sono tantissimi a quel punto vi fa vedere la vostra connessione questa è la mia il fast web e voi avrete la vostra telecom word quello che è questo è il famoso indirizzo pubblico che vi dicevo l'altra volta quello che vedete quando digitate mio ip questo è l'ip pubblico e si connette a questo sito ad esempio di ivo a massa se voi lanciate il go ora non prendetelo prendete risultati con le pinze non è che sono scientificamente questi però vi fa vedere qual è la vostra connessione a casa magari in certi momenti se siete connessi voi i vostri figli che guardano le lezioni tutto il resto potete vedere che naturalmente la freccia decade perché è occupata e tantissima banda ovvio ok vi fa sia il download che l'upload cioè sia la velocità quanto voi scaricate ok sia la velocità di quanto voi invece potete mandare all'esterno l'upload adesso lo faccio finire giusto per farvi vedere che vi dà poi il doppio numero così voi vi potete regolare ok questa è la prima cosa l'altra cosa che volevo consigliarvi a parte Napolso Capo che ne parlo dopo questo sito qui www.cybersecurity360.it notate appunto che c'è l'HTTPS di cui parlava Annalisa prima questo è un sito molto interessante ci sono articoli alcuni tecnici ma alcuni molto leggibili che si possono leggere in questo periodo che magari abbiamo più tempo li possiamo leggere tra l'altro su questo sito scrive anche Giorgio Sbaraglia che vi dicevo prima l'autore del libro di Cyber Security ve lo consiglio perché ci sono degli articoli che ci parlano un po' di questo mondo tecnologico però curando in particolare la sicurezza e vedrete che se ne leggete qualcuno vi si apre davvero un mondo perché scoprite che la sicurezza ormai fa parte di tutte le cose tecnologiche che gestiamo compresi magari gli orologi tecnologici da polso compreso il frigorifero tecnologico che si connette alla wifi connesso a qualcosa che abbiamo in casa tipo le tapparelle che si chiudono da sé le luci e tutto il resto tutto va tutto utilissimo ma che tutto va usato con precauzione perché anche tutte queste cose hanno dei problemi di sicurezza che vanno affrontate tutto questo di Pepita Onlus eccolo qui del libro che vi consigliavo prima che si cura proprio di formazione fa tantissime e bellissime attività nelle scuole di cui fa parte appunto come presidente Giovanni Zoppi è delegata alla fondazione Carolina adesso scorro veloce il sito poi ve l'ho guardato intanto è pepita.it e la fondazione Carolina di cui ovviamente il fondatore è Paolo Picchio questa fondazione che è stata fatta appunto in ricordo di Carolina Picchio Paolo Picchio era l'ospite a Annalisa che dovevamo appunto avere ad aprile ma che riusciremo a portare a Volterra più avanti ok? quando tutto si risistemerà tranquillo ok? però leggetelo questo sito perché ci sono tantissime belle idee e poi ci sono dei filmati che sono veramente spettacolari tra cui quello di posa al cellulare guardatelo perché è bellissimo quindi ve lo consiglio guardatelo perché è comico però comico fino a un certo punto perché poi ci fa riflettere sull'uso che facciamo dello smartphone io concludo qui e ringrazio ancora una volta Annalisa guardo solo se ci sono altre domande mi sembra ah sì una cosa una riflessione che mi è arrivata la condivido alla fine prima dell'ultima domanda che mi è stata fatta è una domanda un po' così ma rispondo anche a quella e mi dicevano in effetti una riflessione tra passo così ecco il filmato è questo di Germano Lanzoni posa lo smartphone consiglio di guardarlo lo vedete adesso lì sotto ora più che mai in questo momento particolare soprattutto magari per le attività viene fuori questo cioè se sei sulla rete riesci magari ancora a fare qualcosa nel senso se anche sui social in questo periodo si vedono tantissime attività adesso faccio gli esempi ristoranti piccoli commercianti che presenti nella rete riescono magari a fornire un servizio di consegna a casa e tutto il resto quindi da questo punto di vista questa problematica enorme che ha investito tutti noi ci ha fatto riflettere su questo se anche in questi momenti riesci comunque a essere visibile è comunque un vantaggio penso che naturalmente perché anche solo avere una pagina in cui dire con i tuoi clienti far vedere le fotografie di quello che hai in negozio se qualcuno te lo può ordinare tu glielo porti è comunque un modo per cercare di sopravvivere a questo periodo non pensi? sì anche perché magari molti oggigiorno sono sui social network parlo dal lato mi ci metto anch'io dal lato dell'utente del fruitore del social magari non non è costretto ad andare a vedere il sito internet magari preferisce andare a vedere il social network e quindi tante attività postano lì i loro contenuti e sono rimangono in contatto con i loro clienti già in essere o anche futuri probabilmente certo sì sì poi ovviamente chi ha il sito ha già una roba magari un pochino più strutturata adesso penso a vendite che fanno live proprio con tutto il catalogo qualcuno si è dovuto un po' inventare diciamo così adesso di forza arrangiare però comunque insomma è stato qualcuno o l'ho visto di queste pagine qualcuno che bella con tutti i prodotti insomma la gente ha dovuto arrangiarsi ma si è arrangiata si è arrangiata bene sì anche perché sui social network c'è anche una maggiore interazione da parte esatto poi puoi scrivere chiedere sì è facilitata ok voglio condividere questa riflessione perché mi hanno mandato questo spunto ho detto ecco un'altra riflessione che faccio poi veramente vediamo se no poi cominciano a dire che siamo lunghi il riferimento adesso non ho qui il libro perché durante un mio incontro l'ho regalato a una bimba che era a questo incontro e che è il libro Donne 4.0 di Daria Magidi lo voglio citare perché a parte che il libro è molto bello vi consiglio di leggerlo ma perché c'è bisogno di donne in informatica oggi c'è Annalisa ospite e mi sembrava giusto citare questo ma è vero cioè la parte femminile in informatica è vitale nel senso che non possiamo pensare di vederla sempre dalla parte solo di noi uomini perché pur bene che venga fatta dagli uomini diciamo così è sempre solo un punto di vista manca il punto di vista femminile infatti c'è bisogno adesso qualche anno fa sembrava che la professione dell'informatico fosse totalmente maschile ingegnero informatico informatico sono cose per uomini non è vero ci sono professionalità donne bravissime tra cui Annalisa che ho qua ma ce ne sono tantissime ovviamente ragazze che fanno tantissime cose nell'informatica non dico che le fanno perché sennò sembra sempre di fare la gara chi le fa meglio le fanno meglio degli uomini no però le fanno in modo da dare idee nuove le fanno in modo in certi casi diverso e può essere arricchiente per tutti quindi lo dico perché il libro donne 4.0 faceva riflettere proprio su questo cioè c'è bisogno di donne in informatica che devono appassionarsi a questo campo anche se sembra un po' particolare ma sì ma oggigiorno ce ne sono tanti in più rispetto a sta crescendo meno male questa cosa sta sta veramente crescendo questa è una cosa molto positiva concludo ringraziando tutti quelli che ci hanno seguito anche su facebook quelli che ci seguiranno in differita va bene lo stesso perché mi dicono non posso va bene uguale intanto ci vedete lo stesso concludo perché qualcuno veramente mi ha chiesto questa cosa mi ha fatto molto arrabbiare mi ha chiesto chi era Napo Orso Capo e allora Napo Orso Capo è questo personaggio qui cioè sono le basi però questo lo dovete sapere Napo Orso Capo va saputo ok erano tutta questa serie di orsi con la motoretta immaginale chi non l'ha visto per favore rimedi perché Napo Orso Capo è un must con i suoi capelli ok concludo proprio con l'immagine di Napo Orso Capo l'immagine ottimista in questo periodo ok va bene concludo salutando tutti grazie ancora grazie a voi e grazie a te Gianluca e a tutti voi per l'attenzione grazie chiudo la chiudo la la connessione chiudo qua e finisco il video ciao ciao